Il peso dell'Europa nelle trattative diplomatiche viene aumentato nel momento in cui esiste una forte coesione degli Stati europei verso le posizioni comuni. Dunque questo richiede posizioni comuni naturalmente condivise possibilmente da tutti, prese in tempi anche abbastanza rapidi. La Commissione in questo momento cerca fondamentalmente di fornire molti di queste risposte e dare delle linee, delle indicazioni che poi devono essere discusse con gli Stati membri. Chiaramente il fatto che esistano l'obbligo di unanimità per prendere queste decisioni comporta delle direzioni nei tempi, al tempo stesso comporta alla fine, una volta che il risultato è stato raggiunto, una forza molto più importante. Poi la Commissione comunque è presente in Ucraina, ha una sua rappresentanza, la Presidente è stata in Ucraina la settimana scorsa e continuerà in questa sua opera di lavoro, di discussione e di supporto all'Ucraina nei prossimi tempi.